Amici eccoci ancora qua con il nostro terzo video della prima serata qui alla Fiera di Bergamo. Le musiche che ascoltate sono di un gruppo havaiano che si sta esibendo ora, ricordo per coloro che si può essere solo in visione in questo istante, e ci troviamo qui alla Fiera di Bergamo per l'edizione, dopo pandemia, dello spirito del pianeta. Vedete adesso le nostre immagini che fanno vedere il gruppo che si sta esibendo. Vedete che c'è anche un Fakiro, adesso noi andremo a vedere il Fakiro per l'occasione. Eccolo qua, lo vedete, Fakiro, qui c'è il gruppo, questo è il Fakiro, che viene dall'Inghilterra. Noi qui siamo vicinissimi, vedete. Ecco, non si è capito molto bene cosa abbia detto. Ha in mano un attrezzo contundente. Speriamo che non intenda usarlo contro di noi. Sembra abbastanza tranquillo. Vedete quello là che trema. Ci vorrebbe un traduttore. Ha detto che è molto contento di essere qui alla Fiera di Bergamo e che spero di ritornare anche l'anno prossimo. Vedete. Ha detto che prossimamente farà anche una tournée in Nuova Zelanda. Vedete che le donzelle hanno anche qualcosa appeso alla cintola. Non si capisce bene di che cosa si tratta. La musica lascia un po' a desiderare. è un canto di liberazione, questo qui allaiana. Vedete che le ragazze tentano di volare via. qui c'è sempre il nostro pacchino. Senza il letto di chiodi. Vedete una panoramica sugli spettatori. direi di chiudere qui il nostro terzo appuntamento e vedremo prossimamente cosa ci ne servirà lo spirito del pianeta. qui abbiamo anche, vedete il nostro, vedete, c'è un tipo poco rassicurante. Dicevo chiudiamo qui e ci vediamo domani sera.